Cari amici del volto del ring, benvenuti in questo nuovo video dove andremo a fare un unboxing molto particolare di questo gioco in scatola della Mattel Games a chiappa la cacca. Iniziamo subito a tagliare lo scotch dell'imballaggio. Allora, insieme al sarre è tutto, qua abbiamo il WC, qua abbiamo la cacchetta con l'ostura lavandini. Allora iniziamo ad aprire la confezione, c'è la cacchetta, tagliamo i lacci che tengono tutto chiuso. Ecco qua, estraiamo il contenuto. Qua abbiamo la cacchetta, eccola qui, morbida. Poi qua abbiamo l'ostura lavandini. Poi qua abbiamo i WC. Eccolo qua. Ecco qui. Faccio il regolamento. Iniziamo adesso ad aprire qua. Andiamo anche il dadino. Andiamo a vedere rapidamente le regole di questo gioco. Ho fatto una parità così singola tra me e me, questo per far vedere il funzionamento. Qua va a vedere il montaggio. Allora, il giocatore più giovane inizia per primo. Il gioco continua in senso orario. Al tuo turno premi lo sciacquone fino a far uscire il dado dal water. Il numero del dado indica quante volte devi premere l'ostura gabinetti del water. Spingi verso il basso l'ostura gabinetti in base al numero indicato dal dado. A ogni spinta avverrai messo un click. Se non succede niente rimetti il dado nel water e sarà il turno del giocatore successivo. Se la cacca salta fuori dalla cassetta dopo una spinta, tutti i giocatori dovranno cercare di acchiapparla. Il primo giocatore che acchiappa la cacca guadagna un gettone. Se un giocatore acchiappa la cacca al volo, guadagna due gettoni. Rimetti la cacca in posizione, metti il dado nel water e continua a giocare. Il vincitore, quando tutti i gettoni saranno stati assegnati, il giocatore che ne ha di più vince. In caso di parità, i giocatori dovranno sfidarsi a colpi singoli di sciacquone. Tutti i giocatori che vanno allo spareggio mettono una mano sullo suo gabinetto e premono fino a quando la cacca non salta fuori. Il primo giocatore che la cacca vince. Passiamo subito alla dimostrazione pratica. Il dado va inserito qua dentro. Vedete qua come si tira. Scende ed estrae il numero. Va bene. Adesso montiamo i pezzi. Ecco qua. Prendiamo la cacchetta. Il click a dimostrazione di come è stato inserito correttamente. Adesso facciamo una ripresa un po' più così. Perfetto. Vediamo. Allora, tiriamo il dado. Facciamo una simulazione. Eccolo qua. Andiamo a recuperarlo. Come dovrebbe mettere un bicchierino, una scatoletta accanto. Vabbè. Facciamo un 3, dai. Niente. Vabbè, continuiamo all'infinito fino a quando... Eccola qua. È uscita. Facciamo una ripresa un po' più in alto, ok? Un po' più così. Così facciamo vedere nuovamente. Facciamo un tot di tentativi. Ecco qua. Bene, ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, ma soprattutto un'iscrizione al canale per essere aggiornati con tutti quanti i video, gameplay, unboxing, manga, qualsiasi tipo di contenuto. Di questi che vi ho menzionato li troverete sempre qua sul canale. Cercatemi sui profili social Instagram e Twitter. Il volto del ring official, scritto tutto minuscolo e tutto attaccato. Il volto del ring official. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!